La violenza comincia da un non gesto, comincia dal silenzio, dall'indifferenza, da quegli occhi che si abbassano invece di esprimere indignazione. Io sono Francesca Silvia Loiacono, co-founder di Podcastory, Voci contro la violenza. È la nostra serie podcast in sei puntate, scritta per non restare in silenzio. Sei donne, sei voci contro la violenza, sei testimonianze per urlare al mondo la nostra denuncia. Podcastory Podcastory